Buongiorno, mi chiamo Daniele Bombaci, voglio iniziare oggi una serie di video sul COLREG, le norme per prevenire gli abbordi a mare. In questa serie di video affronteremo tutta la normativa cercando di leggerla insieme e di capire quello che effettivamente è richiesto da questo bagaglio che è composto da una quarantina di regole e che comprende alcuni allegati. Cercheremo di essere esaustivi, di vederlo tutto insieme, ma soprattutto di essere semplici e pratici. Il motivo che mi spinge a fare questo video è che vedo che sull'argomento c'è molta confusione, sia da parte del neofita, sia da parte di chi già naviga, almeno in ambito diportistico. Questa confusione, ahimè, è generata dalle scuole nautiche stesse, che trovandosi spesso a preparare persone che devono alla fine rispondere a dei quiz, finiscono per trasformare la materia in una sorta di esercizio di riconoscimento dei segnali notturni o diurni che siano. Ma la stessa responsabilità finisce di averla chi fa informazione, come me, sui canali YouTube, quando finisce per tradurre il tutto in una questione di precedenze, termine per esempio che non è mai utilizzato nel regolamento, quindi finendo per fare disinformazione. Dunque, il mio scopo è cercare di restituire a questa normativa così importante la dignità che è giusto che abbia, l'importanza che è giusto che abbia e di fermarmi a quello che è scritto per come è scritto e non a una trascrizione, traduzione, semplificazione di un qualcosa che, per quanto articolato, non è che sia un regolamento di 800 pagine. Intanto qualche informazione preliminare. L'ho chiamato Colreg o norme per prevenire gli abbordi a mare. Online lo trovate anche come Colreg 72, perché è un regolamento che è stato approvato nel 1972. Ecco, se volete seguire la serie di video, procuratevi online, si trovano dei pdf, una versione qualsiasi del regolamento, in modo da seguire meglio le successive lezioni. Oltre ai nomi che ho appena citato, è noto in inglese anche con il nome International Regulation Preventing Collision at Sea, con il suo acronimo IRPCS, e l'analogo italiano acronimo RIPAM, Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi a Mare. È chiaramente sempre lo stesso regolamento chiamato in modo diverso. Attenzione, è una cosa importante, noi lo leggiamo in italiano, ma la versione di riferimento, la versione legale, è la versione inglese. Esistono delle traduzioni legali in francese e in russo, non certo in italiano e dunque idealmente la normativa va studiata, almeno per chi conosce la lingua, in lingua inglese. È la cosa migliore che potete fare per non equivocare. Sarà probabilmente un video molto tecnico, a volte potrebbe anche essere un po' noioso. È comunque alla portata di tutti, sia del neofita che di chi ha già una certa esperienza. Cercherò di pubblicare con una certa cadenza questi video e magari di raggruppare in un un unico video le regole più brevi. Spero di fare cosa utile e gradita. Buon ascolto e buona visione.